Musica Ben ritrovati con l'informazione di RTC Quartarete, clima politico in pieno fermento nella città metelliana. In una nota stampa, diramata ieri, sembra aprissi una crepa all'interno del centrodestra, mentre l'ex assessore Enrico Bastolla invita Servalli a limitarsi solo ed esclusivamente all'ordinaria amministrazione nell'ultimo scorcio di mandato. Sembra profilarsi l'ennesima spaccatura nel centrodestra cavese in vista delle amministrative della prossima primavera. Infatti, all'indomani dell'ufficializzazione della candidatura a sindaco di Marcello Murolo con il movimento civico Siamo Cavesi, Forse Italia e Fratelli d'Italia sembrano aver preso le distanze con un comunicato stampa sottoscritto soltanto dai due partiti, mentre spicca l'assenza della Lega che, a quanto pare, sembrerebbe orientata a sostenere Murolo. Forse Italia e Fratelli d'Italia, si legge nel comunicato stampa, ci sono e sono animati da grande spirito di servizio nei confronti della comunità. Nel corso di un confronto tra i vari esponenti dei due partiti è stato confermato l'unanimo impegno volto a trovare una soluzione condivisa per le prossime elezioni. Si ritiene, prosegue il comunicato, che al momento vadano ricercate le idee e il programma di progetti ed in tal senso siamo pronti a sostenere un progetto che vede come principale obiettivo la città e i cittadini cavesi e non prerogative personali che fanno solo aggregazione di tipo personalistico. Da qui al voto, prosegue il comunicato, ci sono ancora molte cose che dovranno essere realizzate. Questo tempo dovrà essere utilizzato non per creare inutili tensioni e polemiche, ma per cementare un'unione di donne e uomini che possano dare un contributo significativo ad un progetto alternativo all'attuale amministrazione, palesemente incapace di avere idee progettuali per Cava. Intanto, l'ex assessore Enrico Bastolla ha lanciato un invito al sindaco Servalli affinché nell'ultimo semestre di consigliatura si limiti solo ed esclusivamente all'ordinaria amministrazione. Confermo sin da ora, sostiene Bastolla, che vigilerò su tutte le operazioni che il sindaco intenderà approntare, da oggi in poi, ricorrendo se necessario a tutti gli organi giudiziali, se dovesse percorrere strade diverse da quelle che la legge gli impone. Nessun incarico, nessuna nomina, se non quando e se i cittadini intenderanno riconfermargli la fiducia. Il Consiglio dei Ministri, su istanza della Regione, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza per il territorio della campagna interessato dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei mesi di ottobre e novembre 2019, stanziati per la campagna 2 milioni e 357 mila euro. Come comunicato nei giorni scorsi, la Regione ha richiesto lo stato di emergenza per aiutare le amministrazioni comunali colpite dal martempo nelle scorse settimane. I finanziamenti permetteranno di intervenire sui comuni per il ripristino dei territori delle zone colpite, per interventi di messa in sicurezza immediati ed urgenti, ha dichiarato il Presidente Vincenzo De Luca. Successivamente saranno stanziate ulteriori risorse per l'attivazione di prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale e alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate. La Regione provvederà ad individuare i primi interventi urgenti. Amalfi, Maiori, Praiano e Positano, i comuni della costiera amalfitana in cui si sono registrati maggiori danni. Presentato questa mattina presso il Monastero di San Giovanni a Cava dei Tirreni, riciclamiamo il calendario 2020 firmato dalla Metellia Servizi e dedicato alla raccolta differenziata e alla salvaguardia dell'ambiente. Una rete solida che unisca l'amministrazione comunale di Cava dei Tirreni ed il mondo della scuola sotto il nome della tutela ambientale. Questa la mission della Metellia Servizi, la società in house del comune che gestisce tra le diverse attività i servizi di igiene ambientale. Questa mattina proprio la Metellia Servizi ha presentato presso il Monastero di San Giovanni al centro della città metelliana riciclamiamo 12 mesi per baciare l'ambiente e la tua città. Il calendario 2020 firmato dalla Metellia Servizi è dedicato alla raccolta differenziata e alla salvaguardia dell'ambiente. Il progetto della Municipalizzata torna per il secondo anno ma con una novità. Riciclamiamo 2020 nasce infatti dalla sinergia e dalla collaborazione con gli istituti comprensivi e gli istituti di istruzione secondaria superiore del territorio cittadino. Gli studenti, sulla base di un apposito regolamento e all'interno di una cornice comune, hanno ideato sia il visual che la parte testuale con messaggi di informazione e sensibilizzazione a riciclo, a rispetto delle norme e agli orari di conferimento dei rifiuti differenziati. Un momento importante di sinergia tra l'istituzione comune, municipale ma anche con la Metella e con tutte le scuole del nostro territorio. Io voglio ringraziare tutti i ragazzi che hanno dato questo contributo quindi di fare queste immagini che accompagneranno l'anno e il calendario nel prossimo 2020. Sono momenti importanti soprattutto per la sensibilizzazione verso dei temi fondamentali che sono quelli dell'ambiente, della polizia della nostra città. Quindi non ci sottraiamo, anzi siamo anche promotori di queste cose per fare in modo che anche i ragazzi possano essere degli anelli di congiunzione fra noi e le famiglie che a volte sono anche distratte rispetto a queste molto importanti. Quindi ben vengono questo tipo di attività. Dicevamo con l'assessore alla fine un momento di unione tra la scuola, il mondo della scuola, le istituzioni, tutti a favore dell'ambiente. Quindi in questo caso la Metella fa da tramite. Assolutamente sì, l'obiettivo è quello di avere un filo diretto tra l'istituzione che è ovviamente l'amministrazione comunale, noi che siamo il gestore operativo e le scuole. Abbiamo avuto con questo progetto del calendario grande riscontro. Questo è un progetto di lungo periodo, lo abbiamo lanciato per il 2020 ma siamo già pronti per quello del 2021. Gli istituti che sono sette partecipanti hanno prodotto oltre 150 lavori tra i quali ovviamente abbiamo dovuto scegliere i 13 da inserire all'interno del calendario. È stata una scelta difficile, però quello che è emerso è che i ragazzi al di là del tratto grafico, del colore o della scritta particolare a cui hanno pensato hanno tutti quanti messo in evidenza un grande rispetto per l'ambiente e una grande attenzione alla raccolta differenziata che poi è quello che ci interessa e che muove tutte quante le iniziative. Oggi è una giornata veramente importante e sono soddisfatto. Soddisfatto dell'ante perché sono arrivati dalle scuole circa 154 lavori ed è stato difficile selezionarli che hanno tutti belli. Soddisfatto perché la presenza di stamattina non ce l'aspettavamo quindi significa che siamo riusciti a far capire ai ragazzi che è un argomento importante e noi siamo capaci anche di animare queste cose perché non è semplice avere la partecipazione convinta delle persone. Ed ora ci spostiamo a Salerno, continuano i lavori del cantiere di Porta Ovest. Dopo un lungo periodo di intoppi, dal 7 gennaio dello scorso anno sono ripresi i lavori nella parte alta. Vediamo com'è la situazione attuale. Se il percorso viario delle due canne che tagliano la montagna avesse dovuto seguire quello virtuale dell'iter amministrativo e operativo sarebbe oggi ricco di salite e tortuoso. Mal visto fin dall'inizio dagli abitanti di Canalone, il quartiere di Salerno che poggia sul sistema di doppie gallerie, il cantiere di Porta Ovest presentato come strategico per separare definitivamente il traffico automobilistico della città di Salerno da quello commerciale legato al porto ha avuto nell'inchiesta e nel fallimento della Tecnis, l'impresa che aveva vinto l'appalto dell'autorità portuale, il suo momento più critico. Dal 2013 all'ottobre del 2017 con il fermo dei lavori la Tecnis ha realizzato poco meno di 3.000 metri di scavo sui 5.000 da realizzare, in pratica il 52% dell'intervento. La svolta ai cantieri è avvenuto con il fitto di ramo d'azienda al consorzio stabile Arechi. Quasi 60 operai e 10 amministrativi sono al lavoro nella parte alta di collegamento al ballone di Cernicchiara dal 7 gennaio 2019. Ad oggi in soli nove mesi sono stati scavati 806 metri ma allo Stato risulta completato il 76% del lavoro. E a Battipaia, STIR ancora nel mirino dell'Associazione dei Comitati. Poste dichiarazioni contro la sindaca Cecilia Francese se vuole fare la guerra alla provincia può chiudere lo STIR. La sindaca, se vuole davvero fare la guerra alla provincia di Salerno può chiudere lo STIR. A rendere fattibile l'azione amministrativa ci sarebbe il verbale del sopralluogo effettuato lo scorso 7 ottobre dai vigili del fuoco di Salerno nello stabilimento della zona industriale battipagliese che pone l'accento su varie criticità sulla sicurezza dei rifiuti contenuti all'interno dell'impianto. L'assist alla sindaca Cecilia Francese fornito da Comitati e Associazioni Battipaglia dice no civicamente cittade che nel pomeriggio di ieri hanno reso pubblico il verbale redatto dai caschi rossi dopo la visita nel sito gestito da Eco Ambiente Salerno società in house della provincia. Ad emergere sarebbero violazioni nel rispetto delle norme antincendio l'intento di Comitati e Associazioni andare incontro alle richieste di supporto formulate dalla sindaca che ha già annunciato di voler portare avanti atti concreti e istituzionali mentre la città si prepara la mobilitazione popolare di venerdì mattina a 6 dicembre alle ore 9 in piazza Mendola per dire basta al carico dei rifiuti ai miasmi e sollecitare interventi a tutela dell'ambiente e della salute e a presentarsi all'appuntamento e anche la nascente associazione Battipaglia Terra Madre. Il nome Terra Madre, Battipaglia Terra Madre è evocativo del fatto che noi ci vogliamo riportare alle radici agricole di questo territorio e alle radici di questa protesta quindi noi chiediamo le immediate bonifiche di tutte le discariche che sono state promesse da anni chiediamo lo stop alla costruzione del nuovo impianto di compostaggio nel TMB di Battipaglia lo stop ai miasmi e nel rispetto della spiccata vocazione agricola del territorio la dichiarazione di divieto di attività incompatibili con la revisione delle autorizzazioni concesse a tutte le imprese che attualmente lavorano rifiuti sul territorio di Battipaglia rendendo attualmente la situazione invivibile e esasperando i cittadini quotidianamente. Noi saremo presenti ovviamente il 6 dicembre e continueremo a portare avanti la nostra lotta anche dopo e facciamo un appello a tutte le associazioni per raggiungerci sotto questo ombrello. Ed in occasione della festa di Santa Barbara anche a Salerno i Vigili del Fuoco celebrano la loro patrona. Il rituale dell'alza bandiera presso il monumento ai caduti all'interno della sede centrale della caserma di Sant'Eustacchio lo schieramento nel piazzale accolto al passaggio del neocomandante dei caschi rossi Rosa dell'Iseo si è aperta così la mattinata al comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno che con la parata una squadra di Vigili del Fuoco che si è calata e imbracata dalla torre di controllo per srotolare la bandiera tricolore come ogni anno nel solco di una consolidata e sentita tradizione hanno onorato la loro protettrice patrona Santa Barbara patrona dei Vigili del Fuoco e della Marina Militare. La si festeggia il 4 dicembre perché in questa data nel 306 morì martire e torturata secondo la leggenda con il fuoco dopo essere stata rinchiusa in una torre dal padre che non voleva si consacrasse a Dio. è stata anche invocata contro saette ed esplosioni il motivo un fulmine colpì il suo carnifice il padre che non accettava la sua conversione al cristianesimo e per questo la uccise e per questo viene invocata contro la morte improvvisa per fuoco contro i fulmini e le esplosioni esplosivi e armi vengono tenuti in depositi che si chiamano non a caso Santa Barbara e la patrona di artificieri Vigili del Fuoco minatori, marinai, artiglieri architetti, ingegneri ambientali muratori, campanari e ombrellai una giornata di devozione e celebrazione per i pompieri e per gli uomini della Capitaneria di Porto di Salerno che questa mattina insieme hanno partecipato alla funzione religiosa alla Santa Messa celebrata come ormai da tradizione ogni anno alla Chiesa dell'Annunziata di Salerno una prima volta per la ricorrenza e la cerimonia di Santa Barbara a Salerno per tutti per il neocomandante della Capitaneria di Porto di Salerno il capitano di Vascello Daniele Di Guardo il neocomandante dei Vigili del Fuoco Rosa di Liseo e per il Vescovo Monsignor Andrea Bellandi che stamani ha ufficiato la Santa Messa per la festa di Santa Barbara la mia prima Santa Barbara è un momento appunto di riflessione di incontro e di pensiero anche verso i nostri colleghi che non ci sono più e verso coloro che nei mari di tutto il mondo nelle basi navali nei teatri operativi festeggiano e celebrano questa giornata è un giorno importantissimo anche perché è l'occasione per chiedere a Santa Barbara di proteggerci da tutti gli eventi che possono incorrere durante l'attività che noi svolgiamo un'attività pericolosa ma fatta con grande passione e grande determinazione da parte di tutti i Vigili del Fuoco e anche dei Vigili del Fuoco di Salerno di cui mi onoro rappresentare il comando con veramente con grande piacere uomini straordinari che quotidianamente si impegnano nell'attività lavorativa queste sono due realtà che sono sempre state e sono vicini alle persone alla loro vita quotidiana alle loro necessità quindi è giusto essere presenti in questa festa che per loro è molto importante e direi a cui tengono molto un momento spirituale un momento liturgico è cominciato proprio domenica scorsa il nuovo anno liturgico sì siamo in questo inizio di avvento e la lettera che il Papa ha mandato sul presepio ci ricorda anche qui di tornare all'essenziale ritrovare i veri valori del Natale che sono in questa realtà familiare di Gesù che con Maria e Giuseppe entra nel mondo ed ora apriamo la pagina dello sport con la Cavese multa alla società Quilotta dopo la partita scorsa contro il Bisceie decisione consensuale con il giovanissimo attaccante Stranger inoltre il Crebacuilotto che ha festeggiato il centenario riceverà un premio speciale da parte del CONI Campania L'anno solare 2019 per la Cavese finisce con tre partite abbastanza consistenti da affrontare Domenica 8 dicembre c'è la trasferta sul campo della Virtus Francavilla una compagine attualmente in crisi di risultati dato che nelle ultime due partite non ha fatto punti e non ha vinto nessuna delle ultime cinque gare disputate Poi sabato 14 ci sarà la Ternana formazione di alta classifica molto ostica a livello tattico che può vantare elementi che hanno anche conosciuto la serie A tipo Marilungo Vantaggiato e Defendi e infine l'anno si chiuderà per i Biancoblu sabato 21 a Potenza contro la Z Picerno una di quelle squadre che hanno fin qui raccolto meno di quanto meritavano dato che ha solo 17 punti se la Cavese Rimister Campilongo riuscirà a passare indenne almeno due di questi impegni potrà girare a una quota di punti tranquilla in ottica salvezza perché oggi in casa Biancoblu di questo si sta parlando sebbene le potenzialità per puntare più in alto ci siano tutte non fa più parte della Cavese il giovane attaccante classe 99 Marco Stranges che ha risolto consensualmente il contratto aveva fatto solo qualche scampolo di presenza con i Biancoblu dopo la scorsa partita col Bisceglie la Cavese ha ricevuto una multa di 1000 euro perché propri sostenitori durante la gara lanciavano una bottiglia semi piena d'acqua sul terreno di gioco senza conseguenze tutto ciò refertato dal commissario di campo e dall'inviato della procura federale entra in difida l'attaccante Russotto che ha ricevuto la quarta munizione stagionale avvenuta per proteste dopo la concessione del calcio di rigore che ha permesso a Letizia del Bisceglie di pareggiare la società Aquilotta ha passato inoltre i controlli da parte degli ispettori della Covisoc i quali hanno verificato la rispondenza del club ai parametri previsti sull'equilibrio economico finanziario e il rispetto dei principi di corretta gestione da parte del club bianco-blu nel frattempo una notizia giunge dal Coni Campania la cavese calcio sarà destinataria lunedì 9 dicembre del premio un secolo di sport lo stesso riconoscimento che sarà assegnato anche all'unione sportiva salernitana tutte e due le società hanno festeggiato i rispettivi centenari proprio quest'anno tale premiazione avverrà lunedì alle ore 17 presso il salone di rappresentanza Bottiglieri al palazzo della provincia di Salerno e scendiamo ora in seconda categoria annunciata per sabato 7 dicembre a Vietri sul mare la sfida calcistica al vertice tra Vietri Raito e Cava United nell'ottava giornata del campionato di seconda categoria la partita più attesa sarà proprio quella che vedrà impegnato il Cava United contro il Vietri Raito nel girone H del campionato dilettantistico regionale tutte e due le squadre occupano il primo posto a 19 punti 9 in più sulle terze classificate che sono addirittura 4 lo United che sabato scorso ha battuto la Real filetta Pezzano per 3 a 0 con i gol di Risi Libroia e Ventre rispetto a Raito a miglior differenza ma la partita che è annunciata per sabato 7 dicembre alle ore 14.30 Vietri sul mare decreterà la continuazione a braccetto delle due formazioni oppure l'insediamento al vertice di una sola tra Cava United e Raito ad oggi la partita è al campo sportivo ventre c'era stata anche un'opzione pre-Pezzano ma ci sono anche alte probabilità che si possa giocare nella sede naturale il Vietri Raito può vantare nelle proprie file Annunziato e Visone che sono i due attaccanti più pericolosi mentre il Cava ha comunque in organico Risi e Libroia oltre ai giovanissimi che sanno farsi trovare pronti sabato longino l'allenatore dello United parla a proposito di questa gara che si giocherà il 7 di dicembre credo sia diciamo la prova più difficile perché loro sono l'unica squadra che sia riuscita a tenere più o meno il passo che avete avuto voi eh sì una squadra organizzata una squadra che sta portando lo stesso rolino di marcia nostro ha fatto cinque vittorie e un pareggio quindi però ci arriviamo con il morale altissimo con la prestazione fatta oggi nella scorsa partita disputata appreggiato con la filetta Pezzano si è rivisto in campo Enrico Maria Amore classe 74 centrocampista centrale del Cava United una vita tra i professionisti con tra le altre Juve Stabia Salernitana e Ascoli un'emozione perché comunque dopo a distanza di anni avevo smesso nel 2010 e a distanza di qualche anno mi è rivenuta diciamo la voglia di rimettere le scarpette al piede per giocare e divertirmi credo che fino adesso sto adempiendo a quelle che erano le mie aspettative mi sto divertendo sono in un gruppo davvero bello che ringrazio che mi ha accolto è una società modello possiamo dire per questa categoria veramente ha qualcosa di diverso sì è particolare anche nei dilettanti avere a seguito delle persone che comunque hanno passione che seguono la squadra che allo stesso momento sono proprietari della società per cui è tutto così strano così particolare che ripeto a me la mia era sicuramente un modo per riassaporare quelle emozioni io mi sto divertendo per cui spero di continuare ancora a lungo costretto ancora una volta al rinvio il Cava 2000 non si è potuta giocare la partita sul campo dei Castelvernieri che era impraticabile la formazione bianco-verde è ultima in classifica 4 punti ma con una gara in meno e sabato sarà impegnata in casa con i Rufoli e questa era l'ultima notizia di oggi grazie per averci seguito e buona giornata a Autore dei sovrapposti